Vergogna, 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 ci hai fatto umiliare Buongiorno, buongiorno agli amici e amiche dello giocolo duro Non sono pazzo che mi sono inventato sta canzone In realtà l'ho trovata sul tubo, su Youtube Non so perché ma l'ho trovata su Youtube Che parlava tra l'altro di Lippi quando ci ha fatto perdere, nazionale, eccetera E l'ho riproposta per il caso Gasperini Gasperini, Gasperini Perché oggi, come dice mia nonna, voglio fare un ragionamento con voi Non so perché, ma al sud si usa questa espressione Fare un ragionamento, no? Allora facciamo questo ragionamento Secondo voi, secondo voi Gasperini va giustamente insultato e accusato Oppure no? Perché? È evidente che non ha messo la miglior formazione Ieri con la Juventus, no? Ha messo fuori Fondamentalmente sembrava Come sulla partita sulla neve Che dovesse tenere fuori 6-7 titolari Proprio esagerare In realtà ne ha tenuti fuori 3 Che non è chissà che cosa Però allo stesso tempo ha tenuto fuori 3 titolari E questo Ragazzi Non è proprio il massimo Soprattutto se hai Caldara fuori per infortunio E non fai giocare Masiello E poi è normale che hai la difesa che fa i buchi Prendi un contropiede Allo Juventus Stadium Viene espulso Mancini, Mancini, Mancini Come si chiama E poi perdi la partita Mio caro Gasperini Nasone Quindi Poi parlo io Non c'è un naso piccolo Quindi Sicuramente Poteva fare meglio Gasperini Detto questo Il ragionamento che voglio fare con voi è Se voi foste L'allenatore dell'Atalanta Allora partiamo dal presupposto Che la Juve ovviamente in questo non ha colpe, no? Su questo siamo tutti d'accordo La Juve va a farsi la sua partita Se gli altri mettono la formazione rimareggiata Non è colpa della Juve E fin qui ci siamo Mettiamo anche in conto che la Juve Probabilmente vince lo stesso Come vince tutte le partite Però Se voi foste l'allenatore dell'Atalanta E sai che hai una piccolissima percentualità di vittoria Più che altro non è tanto il problema che Fai perdere la Juve Però se tu fai tutte le partite Al 100% Magari la Juve Nel lungo periodo Le scontano Qualcuna la sbaglia Ok? Se invece tu la Juve la fai vincere Giocando al 30-40% Può fare tre competizioni Tutti gli anni Tutti i campionati Ma se tu fossi l'allenatore dell'Atalanta Li faresti riposare Per poi andare a vincere le partite Che contano Come domenica col Verone Eccetera O metteresti la miglior formazione E qua c'è un discorso Uno Di etica del campionato Perché comunque Devi rispettare comunque il campionato Secondo me E quello è un problema Due E degli obiettivi che hai Perché poi Quando l'Atalanta va in Europa E va a giocare a Dortmund Poi siamo tutti tifosi dell'Atalanta Quindi Bisogna vedere Perché gli stessi Che tifavano Atalanta a Dortmund Ieri insultavano Gasperini Però devi trovarti un accordo Devi Tu mi dirai Eh, lui deve mettere comunque la miglior formazione E poi Arrivare per meriti suoi in Europa Eh, attenzione Attenzione Perché magari a volte devi fare delle scelte Quindi Facciamo che io non lo insulto Per me Bisogna mettere sempre Sempre La miglior formazione Soprattutto quando Giorgione è più forte E poi è anche la questione di prestigio È anche la questione di Di farti rispettare E quindi Io non sono d'accordo Soprattutto Spirazzola fuori E ha messo Cosens Non l'ho capito Per nessun motivo Non c'era nessun motivo Se non quello di farlo riposare Per il Verona Quindi As Che ha fatto due partite Quindi assolutamente Non sono d'accordo Con le scelte di Gasperini Vergogna 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 Ci godo Mi spiace per l'Atalanta Perché mi stanno simpatici Atalantini Ma ci godo Se perdono col Verona Domenica A Verona Domenica Perché se lo meritano Meritano di perdere Domenico Il Verona E E basta Ditemi la vostra Fatemi sapere la vostra Cosa ne pensate Ovviamente Gli Juventini Che vengono a scrivermi Non è vero Blah 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 Anche il nostro Stè Che ha fatto le battute Altro bello video di Stè Guardatelo Io non sto incolpando la Juve Attenzione Non sto incolpando la Juve La Juve non c'entra niente Sto parlando Di Gasperini Soprattutto Neanche della Talata Di Gasperini Quindi Ditemi la vostra Noi ci vediamo Come sempre alle 15 Ieri abbiamo fatto Solo su Facebook La La diretta Perché io non c'ero L'ha fatta Vito con Marco Oggi ci sarò anch'io Quindi la faremo Tra l'altro C'è anche Valeria Oggi La bella Valeria Quindi mi raccomando Alle 15 Rimanete connessi Che faremo la diretta Ok Vi saluto e vi ringrazio Ci vediamo Alle 15 Ciao Veli Ciao Veli